ciao ragazzi ciao ragazze top benvenuti in un nuovo video haul di primark allora è un haul che ho fatto in due giorni diversi e in due primark diversi uno al fiordalesio e uno in via torino il giorno che siamo andati con mio marito così poi all'ultimo stato in via e ho fatto incetta di un sacco di cose allora spero che si senta bene ho iniziato a utilizzare la sony blog non per questo video ma sto facendo un blog appunto e devo dire che non c'è paragone audio video c'è proprio qualità top e niente cominciamo a farvi vedere questo sacchetto perché quello che ho preso al fiordalesio cerco di non andare a sbattere contro il microfono di controllare se è acceso ok bene questo messa questa cosina qua con i ciorellini oggi così perché ma sì dai un tocco di primavera così visto che sono contenta perché sono riuscita a fare tipo tetrix lo sgabbuzzino e ci ha fatto entrare tutto anche l'ognomo gigante senza doverlo smontare e quindi sono felicissima mio marito non pensava fosse possibile e invece è possibile poi vi farò vedere come ho fatto se siete interessati vi farò vedere nello sgabbuzzino come l'ho sistemato bene ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo che cosa ho preso da primark vi dico subito che questo non favoloso ma veramente allora iniziamo con un paio di slip tra l'altro carinissimi perché sono anche questi qua belli simpatici slip simpatici vabbè comunque sono fatti così a slip ce ne sono entro quattro paia e gli ho pagati 450 e questo qua è la taglia m rosa con le fragole questo qua col fragola bianco fragole e questo qua grigio sono comodissimi poi era lì costava tre euro in saldo secondo voi la lasciavo lì assolutamente no e l'ho presa perché è bellissima e poi è super sbrucicante con tutti questi glitter ragazzi cioè pazzesca pazzesca e tra l'altro quest'estate comunque comincerà il caldo questa qua mi servirà tantissimo per bere infusi cose comunque a freddo acqua detox tipo e adoro adoro è bellissima e appunto da 9 euro poi l'hanno messa a 5 e infine a 3 e l'ho presa bellissima poi ho preso questo che tra l'altro senza saperlo questo l'ho preso prima poi vedrete che ho comprato delle cose che praticamente si vanno ad abbinare a questo questo qua è un porta monete porta cosa mettere in borsa molto carino a forma di cuore con queste perline sempre che a forma di cuore questo l'ho pagato solamente tre euro e cinquanta ed è veramente bellissimo guardate super capiente bel è caduto bello veramente bello qua fanno etichette lunghe come dei libri la staccherò è veramente carinissimo monete cose insomma forcine per i capelli robe così insomma molto molto bello è grazioso e grazioso poi ho preso questa che era da un po che la puntavo e l'ho presa e siccome sto facendo tanta ginnastica oltre la cicletta sto cominciando anche a fare esercizi e appunto seguiranno video workout questa qua l'ho pagata 20 euro è questa tuttina che carina bellissima del chicago balls praticamente tutta elasticizzata appunto questa qua per fare ginnastica va benissimo che ne so magari messa pure al mare ci sta non lo so comunque così molto molto bella ho preso la la taglia excel perché tanto guardate cioè è bella piccina ma elasticizzate fatta apposta e sono curiosa di vedere come mi sta e poi ve la farò vedere in un blog e nera c'è solo davanti la scritta chicago balls con appunto il toro nba e questa qua appunto 20 euro per te questo ometto super inutile cioè veramente orrore lo buttiamo poi ho preso e mi sono sbizzarrita perché poi vedrete negli altri sacchetti ho praticamente faccio una cosa attaccata un etichetta attaccata vabbè ho preso diversa l'angelo rini e pro iniziato da questo ma se che carino questo reggiseno tra l'altro si allaccia sul davanti e non so perché a questo qui davanti proprio forse per non farà più non lo so e questo qui è praticamente la taglia sesta coppa di bellissimo era l'unico che c'era perfetto appunto come taglia non so perché qui abbiamo messo anche questa etichetta non lo so ragazzi comunque questo qui l'ho pagato solo solamente è bellissimo poi guardate dietro dietro rimane tipo una fascia normale e appunto si va allacciare sul davanti che provo che le decisioni che si allacciano sul davanti sono molto 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 più comodi ovviamente la bretellina regolabile perché lo sto facendo vedere sulla stometto inutile bellissimo veramente spallina appunto regolabili e questo qui l'ho pagato solamente 6 euro cioè 6 euro niente praticamente poi ho preso queste appunto per pasqua primavera che sono colori che io adoro e tra l'altro non so se avete visto i cuscini tra l'altro li ho lavati nell'altro hall ho preso tovagliette rosa queste qui pagate 4 euro ce ne sono dentro 4 qui 4 euro ce ne sono 4 e poi anche questo qua questo verde pastello secondo me ci sono benissime insieme si possono mettere una e una pure alternare se si ho preso e prese entrambi i colori poi non ho saputo resistere queste le ho dovute assolutamente comprare anche se su sin se avete visto compreso diciamo non uguali simili fatte diversamente che avevano comunque il lacetto dietro l'elastico ma queste sono fatte così sono bellissime le ho pagate 10 euro e sono queste bellissime pantofole di barbie sono comodissime belle e ultra soft comfort lavabili lavatrice cosa che con cui io faccio comunque belle 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 meglio ovviamente la misura 40 41 la mia sono bellissime questa è la sola sotto belle 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 poi ho preso questo top che mi è piaciuto tanto mi ha ricordato un sacco victoria secret e detto ma si prendo allora ho preso la misura l vedete è fatto così e non è una canotta non è cioè è praticamente doppio vedete perché questo fa anche da reggiseno tipo appunto un top che appunto questa parte così vedete questo modo e sopra resta così e questi qua sono carini da mettere magari sotto un cardigan sotto una blazer una camicia che ne sta un po sbottonata che bello veramente bellissimo e ho preso la l e l'ho pagato 5 euro bello 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 mi è piaciuto tantissimo c'è ma colpito detto ma che bello che bella fantasia c'è proprio molto bella poi per ultima cosa in questo sacchetto ho preso questi pantaloni di rita ora che sono praticamente in saldo preso la m costavano 16 euro e li ho pagati 7 scontati e sono questi qua allora sono questi qua in mallina allora hanno questo bordo che comunque c'è non lo so se questo si possa portare anche su non credo comunque per farvi vedere l'elastico sotto fatto così si può mettere anche dentro eventualmente quello se non si vuole ecco si può portare così ecco penso che abbia più senso in questo modo si può portare così o se no appunto questo fuori che secondo me ci sta molto bene risvoltato perché tutto nell'insieme è tutto un glitter unico è particolare molto bello sperate che lo rimetto un attimino in sesto così bellissimo e appunto il pantalone è fatto così a coste vedete con questo filo il lurex e la gamba è leggermente a zampa ma proprio poco 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 è bello e quindi io ho preso la m perché appunto come fatto che comunque devo dimagrire ancora ma comunque già mi andrebbe bene perché questi sono diciamo capi che vanno bene tipo taglia unica no comunque elasticizzato ma sicuramente mi sarà molto molto meglio quando dimaglierò ancora di più ed è molto bello quindi basta prendere taglie grandi o taglie che mi vanno bene adesso ma devo pensare anche più avanti a cose un pochettino più piccole però questo l'ho provato e già adesso mi entra però sicuramente sarà meglio è una cosa che si adatta ma sarà meglio con altri chili persi e con questo sacchetto che comunque qua continuano a dare i natalizi non so perché mi hanno finito passiamo al secondo sacchetto poi ce n'è un terzo e poi c'è un'altra cosa gigantesca bene passiamo a questo sacchetto queste cose le ho prese in via torino allora questi pantaloncini ragazzi sono bellissimi li ho provati mi stanno benissimo e tra le altre cose adesso mi vanno proprio mi calzano proprio a pennello proprio a pennello ma quando mi andranno più larghi va benissimo perché c'è questa cintura qui in vita e si può andare a stringere sto parlando di questi pantaloncini bellissimi jeans fatti così che poi di profilo sembra una buona qui appunto questo elastico che si può portare anche comunque senza cintura o cambiare cintura molto bello sono a vita alta bellissimi e dato che non sono elasticizzati ma appunto sono così non è e tessuto jeans non è elasticizzato ho preso la xl sono perfetti questi qua li ho pagati 16 euro bellissimi e stanno veramente bene addosso non vedo l'ora di metterli con il collante oppure con quelli che avevo preso dritta ora tipo a pinocchietto insomma dipende anche senza collante vediamo poi ho preso poi ho preso non credo che sia abbinato però lo stesso lavaggio però si può anche abbinare questo giacchetto che ragazzi l'avevo visto in vetrina al fior d'aliso ma non c'era la taglia l'ho trovato lì in via torino l'ho preso è questo giubbottino in jeans fatto stile chiodo è bellissimo veramente bello adesso lo chiudo e ve lo faccio vedere meglio questo qua ho preso la taglia l perché xl era giusto un po' larghetto dico la verità invece la l va bene si chiude strettino ma va benissimo perché io devo pensare a mettere cose che mi andranno bene anche quando sarò dimagrita di più e quindi siccome continuo a dimagrire come giusto che sia perché sto facendo la dieta ovviamente è meglio prendere cose leggermente più piccole e poi che vanno bene dopo e qua appunto in vita ha la cintura che si stringe se ve lo chiudo così a caso per farvi un attimino capire poi queste cose me le vedrete tutte indossate perché non vedo l'ora assolutamente di metterle e non vedo l'ora questo punto perché è passato il natale è passato tutto voglio assolutamente che arrivi un clima bello fresco primaverile appunto questo è il giacchino bellissimo ragazzi qui ha questa la cintura così appunto in vita la chiusura fatta così è strabello anche qua sulle maniche ha questi questi queste cinturette tipo qui è fatto così è bellissimo è veramente stupendo e appunto la L pagato 26 euro bellissimo poi assolutamente che ho un pelucco a posto poi appunto come vi dicevo ho preso questo aspetta ecco questo diciamo corpetto sì perché è molto carino particolare a parte che adesso stanno mettendo fuori le cose tipo abbigliamento intimo da sposa perché comunque ci stiamo avvicinando al periodo delle spose questo è bellissimo ragazzi è bellissimo qui è rifinito con questo cuoricino è proprio bello anche dietro è fatto col cuoricino stile il body quello rosso che ho preso in corrispondenza del san valentino questo qua ho preso la quinta coppa di sempre pagato 10 euro bello e dietro è fatto così proprio alla fascia larga e ha 5 gancetti bello bellissimo questo pizzo proprio bello poi ho visto queste scarpe e mi sono innamorata a me piacciono queste scarpe guardate tipo stile non lo so ok tipo stile dorothy del mago di ose no forse le scarpette rosse vabbè comunque stile ballerina ma con un po' di tacchetto e qui eh sul sul colo del piede praticamente a questi 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 raccetti è proprio bella e questa qua l'ho pensata a mettere con i vestiti le gonne pantaloncini eh sono carine e le ho prese a scusate il prezzo e la taglia ho preso 41 lo provate mi stanno veramente bene sono comodissime 41 pagate 14 euro belle 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 e con questo sacchetto abbiamo finito voilà adesso prendo l'altro sacchetto wow riaccomi qua bene qua spunta questo maglioncino delizioso guardate che carino è fatto così con con questo collo particolare ho preso la taglia xl perché sinceramente guardato è a crop e quindi non lo volevo corto e va benissimo anche le maniche hanno questo particolare sbuffo fruffru insomma questa cucitura molto bello questo bel rosa confetto è anche sotto è fatto così e questo qua costava 17 euro e l'ho pagato 10 preso in saldo veramente ottimo 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 eccole qua quello che vi dicevo prima con quel accessorio è molto molto similare Ho preso le mie prime, tra virgolette, che comunque userò, però sì, con questo tacco praticamente lo provate e nonostante questo tacco così importante, sono comode, e ho preso queste, guardate che belle che sono, sono stupende. Ho preso queste scarpe con il tacco, guardate, così, bellissime, lo provate, hanno questo coso che si mette sul tallone, ho preso una misura in meno del mio, questo qua è il 40, sì, 40, la misura 40 ho preso, e le ho pagate, c'è scritto qua sotto, le ho pagate 22 euro, non so se si capisce, forse l'ho messo storto, così, pagate 22 euro, il 40 appunto, perché il 41 era troppo grande, e sono bellissime ragazzi, cioè, sono spettacolari, qua fate tipo di raso, e poi questo dettaglio davanti è pazzesco, pazzesco, sono fatte così, erano tutte così, tipo, porche in questo modo, queste erano quelle più pulite, si vede che in tanti le hanno provate, lì dentro Primark, poi vabbè, io le vado a lavare, queste ovviamente non le metterò in lavatrice, ma le laverò a mano, e sono stupende, sono stupende ragazzi, bellissime, veramente belle, 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 temi sapere cosa ne pensate, poi vi farò vedere, indossate, ve le faccio vedere, ma ovviamente queste le metterò in un'occasione molto particolare, sono bellissime, brillano, sono stupende, poi ho preso un altro corsetto, ma più corsetto questo, rispetto a quello bianco, perché è fatto così, è stupendo, ovviamente questo non si può mettere sotto le giacche, le cose, però la devo studiare bene qua, perché è molto carino, magari sotto le camicie o qualcosa, bello, 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 allora aspettate che lo tolgo da qui, che così ve lo faccio vedere meglio, allora questo qua è sempre la quinta, questo però è coppa C, non c'era coppa D, ma va bene, questo qua ha pagato 12 euro, qua ecco, 12 euro, e ve lo faccio vedere, allora dietro è molto particolare, perché è fatto in questo modo, ha queste due, non aperture, però questo ha, e questa fascia bella grande, e davanti è così, fucsia, con tutto questo ricamo di questi fiorellini, molto molto delicato, e qua è proprio fatto a corsetto, perché ha, tipo, queste stecche, qui, e qui, e anche qui, sui lati, proprio bello, mi è piaciuto tanto, bellissimo. Poi, ho preso, per la macchina fotografica, che, quindi, d'ora in poi porterò fuori quella, ho trovato una borsettina, che mi è piaciuta tanto, e credo di averla pagata un po' meno, perché qua c'è scritto 10, però, mi sembra di averla pagata meno, c'è scritto 10, l'ho già svuotata, era imbottita e tutto, praticamente ha questa tasca qui, lunga, davanti, che ci sta il cavalletto della Sony Vlog, qua ci sta la Sony Vlog, oppure anche qui ci sta la Sony Vlog, qua tutti gli accessori, insomma, mi piace, è di mini, fatta in questo modo, qua c'è il fiocchettino, ha, ovviamente, la sua tracolla, adesso la apro e vi faccio vedere, che si allunga, ovviamente, l'allungheremo al massimo, così è comodo da portare in giro la macchina fotografica, questa qui, al di là di una borsa, da portare ulteriormente, magari a portare anche solo questa, poi mi studio bene se la metto qui, la macchina fotografica, o se la metto qui, insomma, è proprio carina, appunto, perché ha questi due scomparti, e ho subito pensato alla mia Sony Vlog, perché cercavo qualcosa per la fotocamera, perché mi serve per portare a fuori, anche se posso metterla in una borsa, anche se ho comunque la cover rosa per la fotocamera, però, gli accessori, una cosa e l'altra, se mi si scarica la batteria per strada, una cosa e l'altra, qui ho tutto a portata di mano, anche le schedine di ricambio, il cavalletto, appunto, ci dovrebbe stare tutto, se qua non ci sta il cavalletto, lo metto in borsa poco male, però l'importante è che ci entri la Sony Vlog con tutti i suoi accessori, del caso, insomma, mi è piaciuta, è carina, poi da usare anche indipendentemente dalla fotocamera, ma se voglio uscire, ci metto il cellulare, il portafoglio e via, è comoda, è pratica, è carina. Poi ho preso, un'altra registrazione, no, no, completo, allora, ho preso Regiseno, che è bellissimo, fatto tipo maculato, con delle specie di cuori, se ci fate caso, rosa, ha anche il suo perizoma, in coordinato, carinissimo, questo qua l'ho pagato, 8 euro il set, e ho preso, appunto, la quinta, coppa C, non è imbottito, è preformato, questo, è bellissimo, molto carino, rosa, così cambio anche le cose, a livello di Regiseno, il cambio, perché quelli che ho sono ormai, vecchi, a parte quello di Victoria's Secret, poi, ho preso questa agenda, che ho pagato, 8 euro, di, Stitch, è bellissimo, poi adoro il fatto, che ci siano tutte queste, di, della Disney, che comunque per me, sono Davide, e, e poi è fatta bene, dentro è fatta veramente bene, per 8 euro, ragazzi, c'è anche questo, il block notice qua, così, insomma, le pagine sono strutturate bene, è molto bella, qua poi, ha, altri scomparti, ragazzi, presto torneranno anche i video, cartopazzi, alla scrivania, e, e anche gli ASMR, perché, assolutamente, poi, ho preso, questi, orecchini qui, eh, che mi facevano molto, eh, hawaiano, eh, sono fatti così, oro, vedete, sono molto carini, con i capelli sciolti, così, no, lisci, o ricci, che sia, hanno anche questo, che pensavo di metterlo qua, visto che io ho il buco anche qua, il brillantino, comunque vediamo, eh, sono composti appunto, da questi due brillantini, e questi qua, comunque, principalmente, ho preso per questo, eh, orecchini qua, insomma, fatti così, a questo fiore, un po' huaiano, che non so che fiore sia, chi me lo sa dire, me lo scriva qua, grazie, e l'ho pagato 5 euro, mi so, mi ha colpito, e, l'ho presi, adesso comincerò, a rimettermi anche, gli orecchini, ragazzi, e anche con questo stacchetto, abbiamo finito, adesso arriva, un pezzo forte, non chiede tutto il resto, sia da meno, però, guardate qua, ta-da, ho preso, questo mega, set, eh, praticamente, copri piumone, eh, spero che la misura vada bene, se non va bene, ahimè, dovrò cambiare, ho chiesto, se non dovesse andare bene, se potevo andarlo a cambiare, mi ha detto, sì, e quindi proverò, eh, a prendere la misura, perché comunque, non c'era misura, king, sì, c'era questo, eh, è un 200 per 200, in teoria dovrebbe andarci, lo stesso, perché non è la prima volta, che prendo questa misura, perché, eh, di solito i copri piumini, sono, eh, leggermente più grandi, tipo di 30 centimetri, ma sarebbero 15 centimetri, 15 centimetri, vediamo, comunque è così, magari lo uso come copriletto, non come copri piumino, è fatto così, adesso lo apre, perché appunto, poi lo vado a provare, se poi non va bene, lo richiudo, questo ho pagato 30 euro, vi faccio vedere, questa è la foto, eh, e viene così, proprio bello, questo qua l'avevo visto, e poi appunto, ma c'era singolo, e quindi, al, al fiordaliso, no, eh, sinceramente ragazzi, guardando, eh, sembra, molto grande, a meno che questo sia la lunghezza, non lo so, vi faccio vedere le, le federe, le federe, sono fatte così, appunto, con questi cuoricini, e dietro, sono così, hanno questa doppia apertura, per mettere appunto, il cuscino, da questa parte, col, bianco, e di qua, appunto, ecco i cuoricini, troppo, troppo carino, questa è l'altra, e qui, eh, c'è, aspettate che, io penso che vada bene, cioè, perlomeno, lo spero tantissimo, e, niente, questo è fatto con, con i bottoni, si chiude, aspettate, riesco a capire dove è il finale, no, non è questo il finale, questo è, ok, di qua, sotto, si chiude con, i bottoni, possiamo vedere, dove è l'apertura, del bottone, dove, dove, non la trovo, c'è, molto bene, eccola qua, era tipo nascosta, vedete, qui così, appunto, questo, si infila così, se dovesse risultare un po' piccolo, per, il, il piumone, magari lo uso come copriletto, senza piumone, adesso faccio le prove, e, però non penso di portarlo indietro, perché mi piace tantissimo, perché comunque è bello grande, cioè, è grande, ragazzi, non è piccolo, è veramente grande, sì, sì, è enorme, sì, sì, è enorme, ragazzi, è enorme, bene ragazzi, io con questo ho finito, fatemi sapere cos'è che vi è piaciuto di più, delle cose che ho comprato, come vedete, sì, le cose dei cartoni, le prendo ancora, ma tipo agende, o pigiami, così, però come vedete, anche il vestire, la lingerie, insomma, è un attimino cambiato, perché vado un po' più sul, femminile, non infantile, ecco, le cose appunto, pucciose, mi piaceranno sempre, non so, se c'è una tuta, che mi piace, tipo, che so, di Allokiti, me la prendo, però, come genere, soprattutto le scarpe, bellissime, e nulla, niente, fatemi sapere appunto, cos'è la cosa che avete, gradito di più, secondo voi, se anche voi l'avete comprata, o, se dovete comprare qualcosa, niente ragazzi, io vi mando, un bacione, e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!